salve a tutti bentornati su access facile cosa vedremo in questo tutorial di un applicativo allora premessa l'ho chiamato preventivi questo realtà applicativo può essere utilizzato tranquillamente per ordini bolle fatture qualsiasi cosa volete cosa come si comporta diciamo così fondamentalmente genera un preventivo ordine quello che è attraverso la selezione di prodotti da un'altra maschera cosa vuol dire ve lo faccio vedere direttamente io come al solito faccio vedere fin dall'inizio quello che otterrete seguendo il tutorial così che sapete subito se vi può interessare per cui l'ho seguito oppure di grazie non mi interessa allora fondamentalmente cliccando su un nuovo preventivo cosa succede succede che cominciando a campilare la data tipo 16 luglio seleziono il cliente e poi cliccando su selezione prodotti mi si apre una maschera dove io posso sia effettuare una ricerca per ditta per prodotto per entrambi è una volta selezionati e ricercati trovati prodotti che sto cercando posto semplicemente faccio vedere qualcosa così posso semplicemente selezionarli e cliccando aggiungi prodotti a preventivo mi chiede il numero del preventivo il numero preventivo è semplicemente questo in realtà è l'id preventivo io preferito lasciare l'id come come numero perché essendo una numerazione automatica gestita da access siamo tranquilli che non ci siano duplicati quindi inserendo il numero del preventivo quindi sei clicco su ok mi dice quanti prodotti sono stati aggiunti cliccando su ok vedete ho tutti i miei prodotti già direttamente aggiunti questi campi posso cliccare fare quello che voglio non succede niente l'unico campo modificabile è questo qui quindi la quantità inserisco la quantità per esempio muovendomi come vedete in automatico mi da l'importo l'imponibile l'aliquota l'importo dell'iva e il totale di riga come vedete automaticamente si aggiorna qua sotto vedete imponibile l'iva al 22 per cento l'iva al 4 per cento vedremo in realtà l'iva totale ma siccome abbiamo avuto dei problemi in passato mi è stato chiesto appunto se dimostrare l'iva secondo la sua aliquota ho inserito anche quest'altro pezzo diciamo e quindi inserendo adesso facciamo un esempio inserisco qui 200 vedete in automatico si è aggiornato tutto adesso abbiamo l'iva 4 per cento ad esempio 500 vedete l'iva 10 e 10 qua mettiamo non so mille vedete che in automatico qui mettiamo 2000 così è sostanzioso vedete in automatico mi si è aggiornata tutta l'iva mia sia mi si è aggiornato tutto il mio preventivo cliccando su aggiorna sono tranquilla poi gli faccio fare un refresh finale dopodiché vedremo come creare il preventivo vero e proprio stampando su preventivo vedete mi si apre adesso lo ingrandisco un attimino qui il mio preventivo il numero preventivo la data la ditta dopodiché questi verranno visti solo a video per cui cliccando io posso stampare posso fare il pdf qui ho tutti i miei prodotti la mia iva il totale eccetera quindi questo è tutto quanto come potete capire è un tutorial abbastanza lungo motivo per cui questa volta ho deciso di dividerlo in tre parti fa tanto caldo per cui fare un tutorial un video di due ore era veramente impensabile ci saremmo entra sia io che voi che lo guardate trascinati verso la fine rischiando di perderci dei passaggi e quant'altro per cui preferisco dividerlo in tre volte ma non vi preoccupate perché diciamo entro una settimana avrete tutti e tre i video così da poter avere dei video più brevi e diciamo è poterli seguire un attimino meglio visto l'apprezzamento che c'è stato la volta scorsa sul tutorial della barra multifunzione anche per questo tutorial ho creato un manuale illustrato ve lo faccio vedere come l'altra volta vedete ci sono esattamente tutti i passi c'è proprio passo per passo e fatemelo dire subito in questo tutorial ovviamente c'è il tutto in questo manuale scusate c'è il tutorial completo fino alla fine quindi se non volete aspettare tre video qui avrete già tutto direttamente quello che ho fatto in più rispetto al tutto al manuale passato eccolo qui ho fatto una sorta di guida abbreviata per chi non volesse stare lì a seguire i passi perché magari già mastica tanto di access volesse solo il codice qui ci sono semplicemente le tabelle trovate direttamente le query delle sql cioè le sql delle query e infine tutti i codici vba maschera per maschera cioè fondamentalmente copiate incollate e avete bene o male dovete solo formattare avrete tutto quanto ovviamente non siete tenuti a prendere il manuale vi ricordo come l'altra volta manuale non è gratuito perdonatemi ve lo chiedo ancora una volta ma veramente c'è un lavoro esagerato dietro questo sia il tutorial sia trovare i codici giusti sia scrivere i codici sia scrivere il manuale lo trovate su payhip come l'altra volta a un prezzo che credo sia più che onesto se poi qualcuno vuol donare di più è il benvenuto assolutamente e acquistandolo avrete tutto ripeto se lo acquistate fra cinque minuti avrete il manuale completo dalla a alla z non dovrete aspettare gli altri video in ogni caso dicevo non siete assolutamente tenuti o costretti in qualche modo ad acquistarli in quanto segue seguendo i tre video di dei tutorial riuscirete assolutamente a fare questo applicate applicativo come si deve bene credo che sia tutto adesso chiudo qui e cominciamo con la prima parte ecco qui io in questo data base ho semplicemente una maschera base che mi sono già creata inutile stare lì a formattare graficamente il tutto ho una tabella clienti dove io semplicemente lì di cliente e tre nomi in croce non scritto nulla voi avrete ovviamente una tabella molto più completa stessa cosa per i fornitori sono sempre gli stessi che ormai ci portiamo avanti dall'inizio dalla nascita del canale e poi ho il mio elenco dei dei prodotti come vedete c'è anche lì di iva ma la tabella iva dell iva preferisco crearla farvi vedere come viene creata direttamente con voi così da non avere errori quindi soliti prodotto il fornitore che mi fornisce prodotto lì di iva poi nome prodotto codice prodotto per il sunitario e note quindi per ora ci basta questo allora da che cosa cominciamo cominciamo proprio dalla creazione della tabella iva t allora cosa vado a scrivere i di iva è una numerazione automatica e chiave primaria e poi gli vado a scrivere l'aliquota ops cominciamo bene aliquota ok allora state ben attenti questo è numerico ma io devo andare nelle proprietà in generale deve avere precisione doppia posizione decimali mettiamo 2 e il formato questo è importante vedete qui percentuale ok salviamo e chiamiamo la tabella iva t ok e questa è la prima tabella l'ho riaperto un attimo perché andiamo in visualizzazione foglio dati andiamo a mettere le nostre aliquote allora facciamo la prima 4 per cento vedete nel momento in cui scrivete esce il simbolo percentuale la seconda al 18 non so nemmeno se esiste l'iva al 18 prendetela per buono tanto non la useremo all'interno del nostro programma e solo per farvi vedere insomma come funziona è la lì va la terza iva diciamo è quella al 22 per cento ok salviamo adesso andiamo avanti andiamo adesso a crearci la tabella dei preventivi ordini fatture ripeto è utile per tutto allora struttura tabella id preventivo preventivo non sbagliate come ho fatto io ok il tipo di dati è una numerazione automatica e che aveva chiave primaria dopo di che abbiamo lì di cliente è un campo numerico poi abbiamo la data potete anche inserire oggi di default mi lascio libero così e poi mettiamo un campo note che fa sempre comodo salviamo questa tabella l'andiamo a chiamare preventivi team ok adesso ci andiamo a creare invece la tabella relativa alla sottomaschera cioè quella tabella quella maschera che con diciamo conterrà tutti i nostri prodotti che formeranno il preventivo quindi torniamo in struttura tabella allora id dettaglio prv così a breve se no è troppo troppo lungo questa è una numerazione automatica dopo di che avrò lì di preventivo scriviamolo bene che è un campo numerico avrò lì di prodotto sempre un campo numerico dopo di che avrò il nome prodotto testo breve il codice prodotto io lascio ovviamente testo breve perché così non grossi problemi di formattazione prezzo valuta prezzo unitario che è una valuta ed infine metto la quantità che è numerico ok salviamo questo quest'altra tabella per ora va bene così la chiamiamo dettaglio prv ti ok adesso si definiamo ovviamente la chiave primaria ok ora abbiamo tutte le tabelle cominciamo col crearci le maschere la prima maschera che ci andremo a creare sarà l'elenco dei prodotti con eventuale campo di ricerca quindi mi vado a copiare la maschera base contro il c contro il b la chiamo elenco prodotti m ok vado in visualizzazione struttura allora la prima cosa che vado a fare questa maschera singola mentre l'elenco dei prodotti sarà una maschera continua diamogli un po di spazio qui e questi spostiamoci un attimo sopra ok così possiamo lavorare tranquillamente ok allora andiamo a vedere l'origine dei dati di questa maschera andiamo in struttura modulo finestra delle proprietà selezioniamo la maschera ovviamente l'origine record quale sarà sarà l'elenco dei prodotti sicuramente vogliamo aggiungere ogni riga di prodotto anche chi ce lo fornisce è ovviamente l'aliquota iva per cui clicchiamo sui tre puntini andiamo a prendere i prodotti e i fornitori e l'iva colleghiamo i fornitori allora inseriamoli di prodotto chiudiamo questo che non ci serve la ragione sociale il nome del prodotto il codice il prezzo le note no e l'aliquota se noi seguiamo l'acquiri vedete abbiamo tutti i nostri prodotti prezzo e l'aliquota 4 per cento 22 per cento andiamo a visualizzare la struttura ordiniamoli per nome prodotto invece che per aliquota iva ecco qui vedete astuccio bianchetto abc eccetera eccetera ok adesso salviamo questa query con il nome elenco prodotti q ok chiudiamo si e andiamo ad inserire i campi della query allora ci serve lì di prodotto ok perché ha preso questa qui va bene non so l'origine controllo ha preso l'elenco prodotti ma deve essere lì di prodotto perfetto poi la ragione sociale il nome prodotto codice prodotto prezzo unitario e aliquota anzi forse l'aliquota per ora vabbè no l'aliquota non voglio mettere non mi interessa ecco qua layout tabulare ok adesso selezioniamo questo formatiamo graficamente selezioniamo questo portiamo su e togliamo completamente quanto c'è sotto allora tutto lo spazio altrimenti poi sembra non non ci da tutti i prodotti allineati questo lo facciamo in bianco purtroppo minimo di formattazione la devo lasciare altrimenti non posso chiudere farlo fuori e fuori ci diciamo video poi di perché vi ritroverei seconda roba dice questa dove uscita ok formattiamo quindi velocemente il più veloce possibile nome prodotto magari questo lo ingrandiamo un pochino forse invece questo lo possiamo diminuire codice prodotto anche questo è il prezzo unitario ok salviamo vediamo un attimino la nostra maschera cosa mi sono dimenticato di fare semplicemente nella fine se le proprietà formato vedete la maschera deve essere continua salva visualizza la maschera ok adesso ho i titoli con tutti i miei prodotti magari ingrandiamo un po la ragione sociale anche il nome prodotto va ok magari questo e questo andiamo e nom lo spostiamo a destra diamo un po visualizziamo la maschera ok adesso è un attimino più capibile cosa andiamo a fare andiamo a crearci la nostra ricerca innanzitutto allora spostiamo un po più giù spostiamo anche questo ok questi non ci servono per cui li eliminiamo ci servono due caselle di testo quindi copiamo questa vedete perché serve una maschera base ok e due comandi allora il primo comando sarà quello della ricerca quindi cerca e lo andremo a chiamare qui cerca btn mentre il secondo comando sarà quello della nuova ricerca quindi ci servirà a svuotare tutti i campi e a riavere tutti i nostri prodotti altro e lo chiameremo nuova ricerca btn adesso andiamo a sistemarci le caselle di idee di di testo questa sarà ditta e la chiameremo scelta ditta txt mentre questo sarà il mio mouse qui sarà il prodotto il nome del prodotto e lo chiameremo scelta prodotto txt ok quindi allineiamo tutto in basso magari questi ne mettiamo un po più al centro qua e qua e qua e facciamo scrivere al centro potrebbe essere magari li possiamo anche per enfatizzare la ricerca andare in struttura modulo gli inseriamo un rettangolo ok e nel formato delle proprietà gli diamo come colore di sfondo un questo ok lo facciamo incassato poi andiamo sulla maschera tasto destro posizione porta in secondo piano ok direi che va bene così vediamo un attimino la nostra maschera ok forse un po più spostato oppure in realtà anche ci servirà ok allora adesso cominciamo a codificare un po' di roba partiamo dai pulsanti il più semplice sicuramente cerca abbiamo finesse proprietà in altro questo non verrà in realtà codificato ma lo diciamo definiremo come pulsante predefinito quindi pulsante predefinito si vuol dire che diamo l'invio tipo appunto inizia pure nuova ricerca invece andiamo su evento su click 3 puntini generatore di codice e riscriviamo quello che abbiamo visto tante volte mi punto scelta ditta txt è uguale a virgolette virgolette mi punto scelta prodotto txt è uguale a virgolette virgolette non zero ed infine facciamo fare un requiri a tutta la maschera ok quindi diciamo semplicemente di svuotare tutto salviamo chiudiamo cominciamo a fare le prove salva visualizza maschera scrivono castroneria qua clicco nuovo vedete mi cancella scrivo qua nuova mi cancella perfetto adesso andiamo avanti dopo l'aggiornamento di questi due campi la maschera deve eseguire un requiri quindi andiamo su evento dopo aggiornamento tre puntini generatore di codice semplicemente anche qui mi punto requiri ok è stessa cosa sul prodotto dopo aggiornamento tre puntini generatore di codice mi punto requiri ok adesso ancora non effettuerà la ricerca perché dobbiamo inserire la linea di codice sulla query allora noi abbiamo detto che vogliamo cercare sia sotto la ragione sociale che sotto il prodotto quindi cosa andiamo a scrivere la ricca anche questo abbiamo visto tante volte dopo comunque giungo per farvelo vedere meglio allora virgolette asterisco virgolette e commerciale maschere quale maschera finalmente abbiamo due elenco prodotti m punto esclamativo e queste scelta ditta txt e chiudiamo con l'acqua e commerciale virgolette asterisco e virgolette adesso lo zoom così è più easy eccolo qui like diciamo qualsiasi cosa ci sia scritta all'interno della casella scelta ditta nella maschera prodotti e prodotti elenco prodotti m ok stessa cosa andiamo a copiarlo fare nel nome prodotto qui però andremo a sostituire con scelta prodotto ok insomma abbiamo anche questa vedete la prima prima la scelta ditta adesso è scelta prodotto ok quindi adesso dovremmo poter effettuare la nostra ricerca andiamo a vedere allora cerchiamo ufficio se clicco su cerca o premio invio vedete qui è tutto esclusivamente solo ufficio adesso andiamo ad abilitare la si chiama la barra verticale così possiamo scendere con i prodotti nuova ricerca se io scrivo qua per esempio piro vedete mi ha cercato tutto quello che c'è piro allora andiamo visualizzazione struttura nella finestra delle proprietà in formato vedete barra di scorrimento andiamo a mettergli quella verticale salviamo visualizziamo la maschera ecco così adesso possiamo scegliere scendere tranquillamente se io riscrivo ufficio ecco perché vedete c'è sia ufficio sia biro quindi se io invece faccio una nuova ricerca faccio ufficio vedete mi da tutte tutti i prodotti vendute fondamentalmente da qualsiasi azienda abbia nella nella sua ragione sociale la parola ufficio andiamo a ok quindi questa maschera diciamo è pronta siamo siamo pronti per quello che ci serve per ora chiudiamo questa e andiamo a crearci la maschera del preventivo vero e proprio iniziamo però dalla sottomaschera possiamo farlo copiandoci la maschera elenco prodotti contro il c contro il v e l'andre andremo a chiamare dettaglio prv sm ok ok apriamo l'invisualizzazione struttura andiamo a toglierci tutto quello che non ci serve non ci serve la ricerca non ci serve nemmeno la ragione sociale ok adesso questa maschera deve essere dati di questa maschera non saranno più elenco prodotti t elenco prodotti q ma per adesso andremo a utilizzare la tabella dei dettaglio preventivo andiamo in aggiungi campi esistenti apriamo allunghiamo il piedi pagina di maschera questo lo portiamo completamente su non dobbiamo lasciare molto spazio ok allora lì di dettaglio lì di preventivo di fatto non ci servirà di vederli per cui li mettiamo nella pagina nella piedi pagina ok li allineiamo a sinistra portiamoli un po più su e poi li coloriamo di rosso perché questo vuol dire che per come faccio io diciamo è in automatico che verranno resi non visibili di fatto servono ad access non servono a noi controllarli li lasciamo adesso visibili perché per controllare appunto che tutti tutto funzioni cos'altro gli andiamo a mettere e andiamo a mettere la quantità se noi prendiamo il campo lo avviciniamo vedete sì c'è una linea rosa vuol dire che questo lo inserisce all'interno del layout quindi questo lo stringiamo ok e direi che per ora va bene così e inseriamogli un pulsante lo inseriamo qui per eliminare il record eventualmente dovessimo aggiungere un prodotto errato possiamo tranquillamente utilizzare la creazione guidata operazione sul record elimina record andiamo avanti io a me piace il bidone a voi potrebbe piacere qualcos'altro avanti il comando si chiama elimina btn e finiamo così adesso ovviamente lo ridimensioniamo quindi dimensione al più basso e magari pure ok lo sposto spostiamo un po in qua ma lo facciamo un po più piccolino non lo avvicinate qui perché altrimenti va va andrà all'interno delle auto e sarà lunghissimo per quanto è l'etichetta diamo finesse le proprietà altro il puntatore al passaggio sarà la mano ok salviamo visualizziamo la maschera allora ho il mio id prodotto nome prodotto il codice il prezzo la quantità poi aggiungeremo ancora altre robe ho l'id del dettaglio preventivo e l'id del preventivo andiamo quindi a creare la maschera del preventivo vero e proprio allora copiamoci sempre contro c contro v la nostra maschera base la chiameremo preventivo m ok andiamo in visualizzazione struttura e questa maschera l'origine dei record sempre per ora no questa rimane così sarà preventivi ti andiamo ad aggiungere i nostri campi allora spostiamoci contro l'x questi qua sopra che potrebbero servirci anzi sicuramente allora gli inseriamo lì di preventivo andiamo a copiarci la formattazione così ci togliamo di mezzo pure questo copia formato ok questo lo possiamo eliminare allora io non l'ho chiamato il di preventivo ma lo chiamo numero preventivo perché mi servirà poi per dire alla all'altra maschera su quale numero preventivo deve inserire prodotti che gli ho selezionato quindi questo possiamo fare decisamente un po più piccolo facciamo scrivere a destra ok dimensione al più alto a linea in alto ok adesso gli andiamo a mettere la data inseriamo dall'altra parte e lì di cliente in realtà noi poi avremo la ragione sociale ed infine magari qua giù gli mettiamo le note ok adesso formatiamo il tutto copia formato cliccando due volte posso poi semplicemente cliccare qui il primo adesso questo copia formato o due e tra ok adesso posso formattarlo come si deve ok data li avviciniamo magari questi li facciamo tutti un po più grande dimensione al più alto e questi li allineiamo in alto ok adesso veniamo all'id cliente ovviamente se io vado a vedere la maschera adesso mi ritrovo qui con un numero che lì di del cliente e non ovviamente come scegliere per cui devo trasformare questa casella in una casella combinata allora innanzitutto gli sistemo l'etichetta scrivo ragione sociale dopodiché seleziono la mia casella tasto destro cambia in casella combinata ok vado seleziono sempre la mia casella combinata vado scusate sulla finestra delle proprietà e gli dico che l'origine della riga quindi tre punti puntini clienti t e id cliente e ragione sociale quindi se io seguo ho i miei tre clienti salvo torniamo nella finestra delle proprietà allora vado su formato sempre con la mia casella selezionata vedete qui numero colonne gli do due perché io ho due colonne una lì di e una la ragione sociale ma la prima deve essere uguale a zero come larghezza cioè io non la voglio vedere quindi se salvo adesso visualizza la maschera vedete tranquillamente qui o il i miei clienti perfetto spero di non stare a correre troppo ma mi preme veramente che non sia lungo e noioso il tutorial ok andiamo avanti ingrandiamo questo quanto è la maschera e lo portiamo un po più giù perché adesso andremo a inserire la sottomaschera come facciamo andiamo nei controlli sempre la struttura modulo vedete questo questa icona noi gli disegniamo letteralmente un rettangolo e seguiamo tranquillamente la procedura guidata ci chiede se vogliamo fare una tabella o una maschera noi usiamo la maschera che abbiamo già preparato sia dettaglio prb sm andiamo avanti qui ci che ci chiede se vogliamo scegliere dall elenco o definizione personalizzata io utilizzo sempre questa perché sicuramente la stessa però preferisco essere sicura e di lio che deve andare a cercare due campi in comune che in questo caso sono i di preventivo cioè le due maschere la maschera la sottomaschera devono essere legate dall'id preventivo andiamo avanti non ci interessa il nome perché andremo ad eliminare il tutto ok selezioniamo l'etichetta e la eliminiamo adesso vediamo un attimino che cosa succede visualizziamo la maschera abbiamo la sottomaschera adesso se noi inseriamo un dato qui si genera il numero preventivo e automaticamente dovremmo vederlo qui e questa è una cosa importante questo e questo dovete accertarvi che coincidano quindi andiamo a inserire la data adesso andando lasciando il campo vedete il numero preventivo 1 id preventivo 1 per cui vuol dire che le due maschere sono collegate adesso io poi vado a selezionare il mio cliente magari diciamolo così mettiamolo al centro così non viene coperto dalla freccia salviamo visualizziamo la maschera ok vedete posso selezionare il mio cliente tranquillamente che cosa vado a fare adesso vado a inserire il pulsante che mi apre la maschera per selezionare i prodotti allora finiamo di preparare questa poi passiamo appunto a quella dei prodotti per la selezione quindi diamogli un po di spazio inseriamo un pulsante contro il c contro il b e lo portiamo qui seleziona prodotti allora diamogli nome come si deve chiamiamo apri selezione btn e lo andiamo a codificare andiamo su evento su click generatore di codice gli diciamo dc md open form quale maschera elenco prodotti m ok ora cosa succede però salviamo e visualizziamo la maschera abbiamo detto andiamo sul record vuoto che è fondamentale che questi due coincidano se io clicco direttamente su selezione prodotti mi si apre la maschera non avrò dove aggiungerli perché non ho un numero di preventivo quindi cosa vado a fare vado a dire ad access controlla prima che questi due campi siano stati riempiti perché nel momento in cui questi due campi sono riempiti automaticamente si genera il nuovo la numerazione automatica quindi torniamo un attimo sul sul nostro pulsante e sul codice allora cosa gli vado a dire controlla che il campo data non sia vuoto come lo faccio controllare con qualche linea allora if is nulla apro parentesi mi punto esclamativo qual è il campo è il campo data chiudo la parentesi oppure data data non date state attenti è uguale al nulla cioè è vuota una stringa è una stringa vuota allora messaggio quindi message box inserisci una data chiuse le virgolette virgola vb exclamation arriviamo qui e diciamo di uscire dalla sub routine quindi exit sub e chiudiamo live stessa cosa andiamo a fare con la casella con l'id cliente copiamo anzi scriviamo allora controlla si controlla che sia stata stato inserito il cliente andiamo a copiarci uguale qua cambia qualcosina ok quindi if is null mi id cliente oppure l'id cliente ok scriviamo come si deve è uguale non più ad una stringa vuota ma uguale a zero perché di fatto un campo numerico magari possiamo scrivere così seleziona un cliente dopodiché gli facciamo fare un bel lo rinfreschiamo visto il caldo di questi giorni ci sta mi e refresh e dopo poi tranquillamente aprire la maschera andiamo a controllare che cosa succede salviamo visualizziamo la maschera allora andiamo in un dove non c'è nulla se io clicco seleziona prodotti vedete inserisce una data è la stessa cosa se io vado a inserire una data se non inserisco il cliente vedete seleziona il cliente perfetto in ogni caso già con la data come vedete si è generato il nuovo numero di preventivo è lo stesso io lo trovo qua sotto ok questa maschera è pronta mentalmente è pronta ad accogliere i prodotti che noi andremo a selezionare sull'altra maschera quindi torniamo sulla maschera elenco prodotti m per raggiungere il campo selezionabile prima di tornare sulla maschera torniamo sulla tabella prodotti t andiamo in visualizzazione struttura andiamo ad aggiungere il campo il campo selezionato o chiamatelo come volete importante che sia un campo si no ok chiudiamo e salviamo adesso andiamo ad aggiungere questo campo nella query diamo visualizzazione struttura cerchiamo nella tabella prodotti il campo selezionato e lo aggiungiamo la query ok salviamo adesso possiamo aggiungerlo anche alla maschera allora guardiamo un attimino ok aggiungiamo selezionato lo avvicino vedete col trattino rosa così che mi ma lo mette nelle out dopodiché elimino l'etichetta se volete eliminarla se volete mettere qualcosa di fatto io sa poi io la elimino e la accorcio il più possibile se riesco a prenderla eccolo qua ok salviamo visualizziamo la maschera perfetto adesso ho il mio campo selezionabile ok vado adesso ad aggiungere aggiungere i due pulsanti uno per selezionare annulla facciamo così contro il c contro il v e contro il v quindi questo lo eliminiamo un pulsante mi servirà per selezionare e aggiungere prodotti direttamente al preventivo un pulsante mi servirà per deselezionare tutto così da esser sicuro cioè da non farlo manualmente scriviamo quindi aggiungi a preventivo e gli diamo un nome come si deve selezionare le proprietà altro chiamiamo proprio aggiungi preventivo btn mentre questo gli scriviamo proprio deselezione tutto e lo chiamiamo deselezione btn up lasciato uno spazio non fatelo mai ok salviamo visualizziamo la maschera abbiamo i pulsanti abbiamo il campi selezionabili e per questo primo tutorial ci fermiamo qui perché poi partiremo nel prossimo con la codifica di questi due pulsanti che come potete immaginare soprattutto quello che aggiunge preventivo è bello complicato sarà un gran bel mal di pancia per cui ci servirà un po di tempo e soprattutto bisogna che siamo freschi voi e soprattutto io nello spiegare quindi per questo primo tutorial ci limitiamo qui ci fermiamo qui sarà breve se non domani dopo domani tre giorni al massimo datemi il tempo di registrarlo fondamentalmente e con questo caldo non è molto facile però promesso e diciamo che entro una settimana avrete tutti e tre i tutorial tranquillamente in ogni caso come vi ho detto nella sul manuale c'è già tutto quanto per cui se qualcuno volesse aspettare li trova tutto quanto bene per adesso vi ringrazio e niente ci vediamo fra poco tra qualche giorno ciao a tutti